Qual è stato il primo approccio con la città e il territorio? Le prime impressioni sono eccezionali, nel senso che è inutile che io decanti le bellezze del Golfo del Tiguglio, quindi particolarmente, oltre che onorato, è particolarmente felice di essere a Chiavari, cittadina che colpisce immediatamente per l'ordine, per la cura con la quale si presenta all'ospite che arriva a Chiavari, quindi un'ottima impressione iniziale. C'è un filo che continua in questi anni ed è quello della vicinanza, del rapporto tra l'arma dei carabinieri e la gente. È qualcosa che già sta respirando in queste ore? Sicuramente, da questo punto di vista, ci sarà assoluta continuità con quanto è stato fatto nel passato. Mi riferisco ai piccoli furti, mi riferisco alle truffe, soprattutto a quelle in danno delle fasce più deboli, quali possono essere gli anziani, mi riferisco appunto ai reati predatori in generale, che sono quelli che cercheremo di perseguire. Hai già avuto modo di vedere quali sono alcuni degli aspetti più negativi di questo territorio da seguire? I miei collaboratori mi hanno già illustrato in generale quella che è l'importanza appunto della repressione dei reati predatori e quanto essi siano sentiti dalla cittadinanza. Quindi un quadro generale già mi è stato fatto, adesso cercheremo nel più breve tempo possibile di scendere nel particolare. È nato a Roma, è cresciuto in Sardegna, ha avuto varie esperienze al centro Italia e al sud, Rieti, Frascati in zona Roma e poi l'ultimo incarico importante a Messina. Adesso cambia in un certo senso il mestiere, passa dall'attività investigativa a quella più in divisa, si sta abituando a questo. Confesso il piacere di tornare a rindossare l'uniforme dopo appunto circa dieci anni in cui ho prestato prevalentemente servizio in abiti civili. Diciamo che stiamo facendo lo switch che ci riporta a stare in mezzo alla gente in uniforme, che è un vero piacere qui a queste latitudini in cui ancora ho notato che la gente ha piacere a salutare il rappresentante dell'istituzione quando lo incontra in uniforme.